introduciamo il tema della cultura ma anche delle risorse in termini proprio di persone professionalità e competenze quali vedi essere le competenze chiave per avere successo in questi scenari diciamo di moda omnicanale ma sicuramente qualche mese fa avrei potuto rispondere serenamente parlando di dati competenze sui dati analisi gestione reportizzazione data visualization eccetera oggi insomma negli ultimi n mesi il discorso ovviamente è tutto o molto incentrato intorno all'intelligenza artificiale sia generativa che altro e quindi probabilmente oggi quello che probabilmente le aziende devono fare è capire come non restare indietro per evitare che altre aziende più rapide più veloci possono cogliere quei vantaggi competitivi che l'AI opportunamente gestita potrebbe dare siamo ovviamente in un territorio ancora in parte o comunque molto da esplorare dove tutto è da inventare quindi c'è sicuramente la necessità di capire che cos'è l'AI capire come potrebbe essere inserita nei processi in corso quali nuovi processi l'AI potrebbe andare a gestire e serve formazione cultura e forse anche figure professionali che però ovviamente in questo momento non esistono essendo una tecnologia che è realmente appena nata Al prossimo episodio